E ciao a tutti ragazzi, io sono EletroSeggi, oggi stiamo ritornati nel mondo degli SCP, nel mondo Lockdown. Qua intanto i label ci stanno conquistando casa, cioè ora non c'è più spazio proprio per dirvi. Comunque, nello scorso episodio avevo visto l'SCP 682, ovvero il rettile immortale o difficile da... Io lo chiamo il rettile immortale, però è difficile da distruggere. La volta scorsa l'avevamo ucciso con la Broken Telekillsword, quindi allora, voglio dire una cosa. Noi la volta scorsa abbiamo ucciso il 682 con la Broken Telekillsword, che fa 950.000 di danno, è un danno assurdo. Ciò significa che il signor 682 ha una vita minore di 9.500. Aspettate un'altra. Allora, stavo dicendo che il 682 purtroppo la volta scorsa non l'abbiamo potuto sperimentare chissà quanto. Infatti la volta scorsa la intro non era manco venuta completa, perché si era chiusa la registrazione. Allora, intanto oggi il mondo non lagga. Strano, perché la volta scorsa stava laggando un casino. Comunque, l'SCP che andremo a visitare oggi, non so come, ma in questo periodo piove molto. L'SCP che andremo a visitare oggi è questo qui. Come il 682. Anche questo c'è la forma di una lucertola, vedete? Sembra molto una lucertola, guardate. Eh, perché quello del 682, se vi ricordavate, aveva la forma di una lucertola. Adesso vogliamo andare a vedere il 682? Un attimino. Non ci mettiamo neanche chissà quanto. Quindi io, raga, voglio dire, se qua c'è il 682, cioè, allora, non so, non riesco più a capire nulla. Ah, in questo sto dicendo che qua c'è la cella del 682 che abbiamo visto e c'è questa forma di un rettile molto piccolo. Invece di là c'è un'altra cella con la forma di un rettile, di una lucertola sempre. Intanto il mostro della scala... La volta scorsa, per sbaglio, ci siamo andati. No, è tornato innocuo. Il che è buono. È buono il fatto che non ci... non venga. Comunque là gli Axolotl sono tutti bravi, tranquilli. Eccoli qua. Che belli che scelte. Pure quello blu c'è. Eccolo qua. C'è anche l'amico di quello blu. Questi qua me li voglio portare anche al nuovo laboratorio che sto preparando. Che è pronto, però non lo voglio ancora far vedere. Allora, raga, andiamo direi adesso dall'SCP di oggi, che è questo qui. Abbiamo perso chissà quanto tempo. E andiamo. Nel fondo c'è un pesce tropicale. Va bene. La forma della cella... Aia. Raga. Aia, ho visto il cartello. È viola. Quando è viola, raga, dovete sapere che l'SCP è a polion. Quindi, raga, stiamo andando bene. E inoltre ho letto 682, mi sa. 680, mi sa, eh. Allora. No buono. Intanto la cella è quella del dottore della peste. Però questo è un caso a parte. Raga, SCP 682. E poi qua c'è una C. Mi sa che intende 682 U. Però non c'è la spazio, non ho scritto C. L'immagine non si capì. Che è nell'immagine? Sembra un axolot, vagamente. Questa è la coda, questo è il corpo, questa è la testa. Raga, non ho la più pallide di cosa sembra. Inoltre è Apollyon. È Apollyon in viola. Quindi, raga, il 682 è Apollyon. E no, buono il 682 è Apollyon. Però non so perché la cella del dottore è piccola. Vabbè. Allora, 682 è il rettile immortale o difficile da distruggere. E sì, allora io direi di prendere il cartello. Ma poi perché c'è scritto C? Boh? Ah. Ah no, raga. Siamo scemi noi. Quindi non è l'SCP 682U, quello di oggi. SCP 682, leggete. 682 CU. CU, non U. Vedete, infatti questa era una C. Avevo dei sospetti. E se non mi sbaglio, aspetta, voglio vedere un attimo. Sì, sì, me lo ricordo. Dov'è? Mi sa che è qui. Dov'è? Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo là. Io questo SCP lo conosco. Non è pericoloso, tranquilli. È un joke. C'è una sottospecie di SCP joke. Vi spiego. Praticamente l'SCP 682CU non appartiene a nessuna fondazione branca. È un SCP joke. E non ha neanche una classificazione. Infatti lui, se andate nel suo fascicolo, dice classe dell'oggetto viola. Infatti si è buggato. Cazzo. Ok. Quindi, raga, è là. È viola. Non perché ha polio, ma perché nella classe dice che è di colore viola. Lui non ha proprio una classificazione sua propria. Di per sé, raga, l'SCP 682CU praticamente è il 682, però più carino. Cioè, lui è una lucertola piccolina ed è molto carina. Infatti, lui, nel suo fascicolo... Lo vedo, la coda. Lui non dovrebbe neanche essere aggressivo. È molto buono. Si vede la coda. Vedete la coda? È strana la coda. Vabbè. Come ho già detto, lui è carino. Infatti, lui ha una fac... Ok, qua c'è roba. Lui ha una faccia molto strana. Perché nell'articolo proprio fa vedere lui con la sua faccia. Qua c'è una porta magnetica. Non so neanche io perché. Comunque, raga, nulla di particolare questo SCP. È tipo una specie di lucertola super carina. Qua, allora, nella c... Nella cassa, sta una panacea. Una carta di livello 3 e dei biscotti. Che è sta roba? Va bene. Allora, abbiamo otto biscotti. Ecco, ecco, lo vedete? Eccolo lì. Lui dovrebbe anche avere una faccia molto strana. Si vede benissimo. Ok, non cadiamo, per carità. Vedete? Ecco, la faccia si è vista. È molto diversa da quella nell'articolo. Quella del documento è tipo strana. Ok, siamo entrati. Lui è piccolo. Non ci attacca. Vedete? È piccolino. È proprio una lucertola. Piccolissima. Pure una faccia... La faccia è diversa. Perché quella del 682 CU dovrebbe essere tipo scema. Un po' bruttarello. Se gli do un pugno non succede praticamente nulla. Lui... Cioè, lui è innocuo. I biscotti è che se... Ah! Domestic. Raga, possiamo addomesticarlo. Non ci segue con i biscotti? Cioè, lo posso addomesticare io questo qua con i biscotti? Però non mi segue. Non fa niente. Addomestichiamola allora. E l'abbiamo addomesticato. Allora, stavo dicendo. L'abbiamo addomesticato, raga. Eccolo qua. Non lo posso sedere. Però mi segue. Scusate. No, non mi... Raga, sapete chi mi ricorda? Ma mi sa che mi segue. Non ne sono sicuro. Lo posso sfamare. E lo spammiamo, sai? Ma lui mi segue? No, non mi pare. Non mi segue, raga. Non è bello che non mi segua. Dai, vieni qua. Raga, allora. Noi l'abbiamo addomesticato. Però non è come i cani che ti segue. Cioè, tipo... Come ve lo posso dire? Come il gatto... Che avevamo visto nell'altra serie. Nell'altro mondo. Josie the half cat. Che avevamo visto nell'altro mondo. Questo però... È un po' scemo. Non fa niente. Se io lo attacco, lo posso dopo sfamare. Allora, si può addomesticare e sfamare con i biscotti. Però per il resto... Non fa niente. È buono questo SCP. Io, raga, lo porterei a casa. Perché tanto questo qua non è che sia chissà quanto... Aggressivo. Faccia qualcosa di particolar... No, no, no. No. Non morire. Deve uscire. Eh, raga, è un po' difficile. Allora, raga. Ci vediamo... Io vado a lavorare a casa mia. Ci vediamo fra poco. Anzi, raga, aspetta. Prima voglio vedere... Se io lo ammazzo... Sto qua... Vediamo un po'. Voglio vedere questo ultimo test. Ok. Dice il messaggio... Eh, ne ero certo a riguardo. Perché io l'avevo addomesticato. Vai, ci vediamo fra poco. Ok, ragazzi. Allora, eccoci qua. Intanto stanno i fun... Aspetta, fatemeli togliere. Meteo sereno. Speriamo che... Diventa sereno? È diventato sereno. Ok. Oh, stavo dicendo che ho preso l'SCP. Eccolo qua. Innocuo, bello e bravo. E fa anche compagnia al nostro amico Eric Toy. Che sta da solo. Mi dispiace anche un po' per lui. Il cartello. Ora, io non so dove lo metto. Lo devo mettere. Lo mettiamo qua, per ora. La panacea la mangiamo. Perché tanto... Cioè... Ce ne abbiamo già qua. Anche nel laboratorio. Quello che sto preparando. Ragazzi, io non vedo l'ora di finire gli SCP della collaboration. Così togliamo tutta sta roba e vi faccio vedere il laboratorio. Vabbè. E niente, ragazzi. Questo è stato l'SCP di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel like. Iscrivetevi. Da me, da me, da Eric e da 682CU e tutto. Anche dagli Axelot che stanno da quella parte però. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.